Oh no, no, no Bella, 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 a Mipii bella 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 mitici nuova rubrica appena inaugurata con the dog cup dei platini stupidanti 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 platini stupidanti e andiamo c'è bisogno tutorial non credo non credo allora primo platino secondo platino ma che platino mamma mia come se mi dà 50 platini mille son the much good known noses allora praticamente la rubrica dei giochi stupidanti che vi danno il platino stupido avere un platino in un minuto e schiacciando r1 non ha nessun significato ed è proprio per questo che è bello 2008 3000 e andiamo col primo argento perché chiaramente non sono tutti bronzo ci sono anche l'argento e gli oro chiaramente gioco complicatissimo gioco iperbolico cose incredibili ragazzi si vedono sia nei giochi di questa nota a casa software house che fa giochi complita e complicatissimi platini caramboleggianti incredibile ma noi che siamo mitici ce li giochiamo tutti ragazzi ce li giochiamo tutti o cominciamo con gli ori ogni volta che arriva millino eccolo ho il pupi oro e quando stiamo per arrivare a 10.000 arriverà anche il mitico il mitico platino diciamo che potrebbero anche dare un animazione a queste povere creature usate per questi caramboleggianti platini vabbè diciamo che continuo la serie sul canale di marco drams games voglio portarveli tutti perché è una cosa che a me fa parecchio ridere fare i platini così è veramente ridicolo è veramente ridicolo e stiamo raggiungendo il platino dopo ore 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 di fatica e eccolo the dog k va bene ragazzi come tutte le volte usciamo e vi salutiamo vi ricordo di iscrivervi al mio canale per questa rubrica incredibile e tantissimi altri video tutorial trofi hunter gran turismo trucchi soluzioni trofei latini un boxing tutto 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 tanti contenuti multimedia del vostro marco drams games mi raccomando di iscrivervi al mio canale youtube qui su twitch marco drams games cercatemi sempre così su instagram facebook twitch twitter e discord marco drams games ciao ragazzi al prossimo video caramboleggiavole ciao bella ragazzi benvenuti nella nuova rubricona 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 una rubricona come dice zaneboy una mega rubricona di trofei stupidanti stupidanti trofei e platini e giochi stupidanti dal vostro marco drams games c'è zaneboy mi raccomando seguite tutta la serie che a noi fa morire da ridere ciao al prossimo mi picci